Senza volerlo alza un po' il vassoio, senza volerlo del sugo ti finisce dentro la camicia. Dalla rabbia comincia a trascimare il sugo, finiscono tre piselli e qui diventi capitano signore, è un ordine, sono graduato, vada laggiù, le do 800 euro laggiù, 800 euro dai su, su, dai, dai su, dai, non scherza più, dai, dai su, dai, te li metto qui, qui vicino al purè, uno, due, guarda ci sta anche il terzo, uno, due, tre, non si treve senza quattro, vai su, su, dai, veramente signora, su, uno, due, tre, dai, uno, due, tre, qui, su, uno, due, dai, su, uno, due, dai, te li metto qui, e ti porta over, over, oltre il limite, over, eccolo signori, over. Mi hai rotto il cazzo, ti può andare? Ti può andare mi hai rotto il cazzo? Come te la vivi mi hai rotto il cazzo? Undici anni che mangio imboltini di merda che mi fai mai te, non l'ho mai digerito i tuoi imboltini, undici anni, ho detto ora glielo dico, ora glielo dico, poi giù, te l'ho detto, lei, dai uno, due. Prendi due stecchini? Prendi due stecchini? Poverina era così cara, se ne vanno sempre i migliori, 5x5 è 25, 5x3 è 15, 5x7 è 35, porto due. Però, pensandoci bene, potrei dire che, non oso dire nemmeno pensare che sono più libero ora, almeno la domenica sono libero, no? Potrei dire, potrei pensare che sono domenicalmente libero, domenicalmente libero. Buonesi! Grazie a tutti. Adesso avevo 25 anni, una scena così, potevo recuperarla anche in quattro secondi. Ora ho 49 anni, quasi il doppio dei 25. E allora ho trovato questo escamotage, così la gente non si accorda che prendo fiato. Grazie a tutti. Grazie a tutti.